Sono Lighi! Sei Viglo! E un cazzo sei! Gioca! Giorno hanno detto la cosa che andavano in libreria, etero, e sono qua! Gioca! 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 Di Gioca! 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 Come sei, fammi? Come sei Vigloca? Come sei Vigloca e guadagno? E tu di te! Quindi non senti a fare Vigloca! non sei in postazione di Polonia, sei in quella chiamata per la stazione Tannucce ok di scelta così go si va bene non saluta di forma poi è filozio e giuro che è la che è progetto giuro la stessina ora ce l'ha fatta Rosina aspetta presto passerei super capito che sta faccio ciao 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 E' mio amico Sindra Dina, vuoi decidere cosa guardare a chi è entrata? Sei l'ho chiede mi ha detto ci faccia io o si? Ah, perché se l'ho fatto? Scusa. Fa solo se ti chiede qualcosa di reale. Ah, ok.